L'armonia è una grazia interiore che soltanto lo Spirito Santo può donarci. Nella messa mattutina a Casa Santa Marta, a Papa Francesco, ha ripercorso gli atti degli Apostoli, soffermandosi sul modo di vivere dei cristiani della prima ora, rinati da quello Spirito capace di dare identità, forza e modo di agire nuovi. In quelle comunità, ha spiegato, nessuno viveva nel bisogno perché tutto era in comune. Avevano un solo cuore, una sola anima, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apperteneva. Ma fra loro tutto era comune. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso. La vera armonia dello Spirito Santo ha un rapporto molto forte col denaro. Il denaro è nemico dell'armonia, il denaro egoista. Per questo il segno che dà è che tutti davano il suo perché non ci fossero i bisognossi. Gesù, infatti, ha ricordato il Pontefice, ha spiegato che non si possono servire Dio e il denaro. L'armonia ci dà la generosità di non avere niente di proprio e non va confusa con la tranquillità, perché ha riflettuto se si tocca un determinato problema ci sono casi in cui poi scoppia la guerra. Si tratterebbe quindi di un'armonia negoziata che non è quella dello Spirito, l'unica capace di far sì che nella Chiesa e nella comunità ci sia il coraggio di dare testimonianza del Signore Risorto. Grazie mille! Grazie mille Grazie a tutti.